Ciao, sono Luigi del negozio Hobby di Trieste. Oggi ti presento la nostra idropittura bianco traspira, il prodotto ideale per proteggere e decorare ambienti umidi e poco arreggiati. Questa idropittura sarà in offerta a 24,90 euro fino al 22 di agosto in tutti i nostri negozi. Eccola qui. L'idropittura bianco traspira è una pittura già pronta all'uso con un alto potere coprente. Infatti ha un'ottima traspirabilità in ambienti umidi e con poca reazione, come cucine, bagni e spazi sensibili alla formazione di muffe. Grazie al suo effetto opaco è in grado di mascherare al meglio le imperfezioni delle pareti e una volta denteggiato gli ambienti sono già agibili dopo una breve reazione. In più, questa idropittura è ecofendili perché non contiene sostanze tossiche o solventi organici. e quindi rispetta l'ambiente. L'idropittura bianco traspira è sicuramente un prodotto con elevata resa e ottimo rapporto qualità-prezzo. E questo è tutto per l'idropittura traspirante bianco traspira. Spero che questa presentazione ti sia stata utile. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o per acquistarla puoi venire a trovarci in negozio o consultare il sito hobby-italia.it E adesso è ora di trovare nuove soluzioni. Grazie. Grazie. Grazie.